sta per partire la ventiduesima edizione di carnia mountain bike organizzata dalla carnia bike roberto giazzon oggi ce ne parla perché insomma per tutti gli appassionati ma anche per chi volesse avvicinarsi a questa disciplina ce n'è veramente per tutti i gusti intanto cos'è carnia mountain bike allora il trofeo carnia mountain bike è una serie di gare questa non abbiamo otto di manifestazioni anzi perché abbiamo sette gare più un raduno e lo svolgiamo in carnia da 22 anni con formule sempre diverse e partiamo di solito sempre fine maggio inizio giugno e quest'anno abbiamo anticipato facciamo dal primo di maggio e finirà a metà settembre otto tappe in otto paesi della carnia beh può anche dire quali possiamo anche dare gli appuntamenti certamente certamente gli elenchiamo tutti iniziamo domenica questa quindi il primo di maggio a verzegnis si tratta di una gara su tre giri quindi un cross country e percorso super è già segnalato per chi vuole andare a provarlo da allenarsi insomma esattamente il 15 maggio facciamo due settimane di pausa in pratica andiamo a preone altra gara abbastanza storica radicata nel nostro trofeo la la novità invece arriva domenica 12 giugno quando ci spostiamo a rigolato in particolare nella zona di piani di vas sopra l'udaria abbiamo avuto questo ingresso è una novità assoluta faremo un giro unico di circa 22 chilometri con mille e cento metri di dislivello quindi qua bisogna pedalare sul serio eh sì anche perché dicevi giro unico perché spesso c'è capita insomma in alcune gare che ci sia di solito sì di solito noi facciamo ripetizioni di un circuito esattamente percorsi più brevi ad esempio quello di domenica dell'esordio di verzegnis si tratta di un percorso di sei chilometri da effettuare tre volte invece ha rigolato per far conoscere un po' il territorio che è molto frequentato a piedi eh nella zona di Chiampi Zulong e sul monte Talm Marco Vigilo nuisce perché conosce bene invece e quindi abbiamo preferito insomma far visitare a tutte le persone che arriveranno un'ampia zona e dicevamo dopo rigolato sì dopo rigolato andiamo a forno di sopra 31 luglio qui eh si ripercorre grosso modo la pista da fondo quindi abbastanza semplice tecnicamente e anche questo è un percorso ormai che i ciclisti conoscono bene in quanto è parecchi anni che si fa questa gara altra cosa che a Carnia Bike eh interessa molto e su cui puntiamo molto è il raduno di il primoggio del 13 agosto raduno cosa significa perché c'è una novità appunto di quest'anno qui non ci sarà classifica eh in pratica vogliamo mescolare i due mondi che sono proprio agli opposti cioè gli agonisti sfegatati che partecipano solo a gare e si allenano per fare le gare esatto cronometro e cardiofrequenzimetro dicevamo volevamo mescolarli con eh gli escursionisti gli amatori che invece vogliono godersi il paesaggio che magari i prossimi anni scelgono di partecipare però cercate anche di convogliare sì ehm sono gare impegnative bisogna essere allenati insomma non può partecipare chiunque allora allora eh sì quest'anno abbiamo fatto una scelta abbastanza drastica le altre ventune edizioni del trofeo erano aperte a tutti eh agonisti tesserati amatori chiunque e beh però venivano pochissime persone prive di tessera o senza la visita medica agonistica e abbiamo rinunciato insomma a a poter far correre tutti abbiamo deciso di ehm organizzare il trofeo sotto egida axi che è una federazione eh che si occupa anche di ciclismo e quindi tutte le nostre gare per potervi partecipare bisogna essere eh in possesso della visita medica agonistica e tesserati e avere una tessera sì di una federazione che sia la axi o che sia la federazione ciclistica la wisp o tutte le altre insomma che ci sono pensi che questo vi permetterà insomma di innalzare il livello e anche di di attrarre quel punto maggiori agonisti non lo so anche da un po' di ragione diventa un livello più alto che può insomma implementare il valore della manifestazione nel complesso eh avete fatto questo ragionamento insomma questa è la speranza il ragionamento è questo la speranza è questa l'auspicio però ehm già negli anni scorsi il trofeo carrile mountain bike era visto dai ciclisti eh friulani in genere eh come molto agonistico percorsi duri e quindi era poco frequentato da da chi non aveva un buon allenamento una buona preparazione allora abbiamo detto tagliamo la testa al toro e lo facciamo agonistico scegliamo l'identità ben precisa insomma questo avete pensato sono gare con vittoria diciamo autoconclusive oppure c'è eh un premio finale c'è un tempo finale e che in circuito magari si inserisce questo se uno si allena e partecipa per cosa allora eh tutte le gare sono fino a se stesse nel senso che ci sarà una premiazione eh per ogni gara ci siamo svenati perché ogni gara prevede 40 premi aspetta una soddisfazione per tanti allora eh sì sì per l'organizzatore soprattutto e poi le nostre gare fanno parte del trofeo cane mountain bike che ehm a metà settembre quando faremo la finale ai laghetti di Timau eh faremo la premiazione quindi premiazione di ogni tappa premiazione eh di merito alla fine di tutto il trofeo in più le nostre sette gare partecipano anche al trofeo ai trofei dell'Axi le le prime due quindi Verzegni e Sepreone fanno parte del trofeo primaverile che si chiama cospalat che è lo sponsor eh le altre cinque fanno parte del trofeo estivo zanette quindi le nostre gare hanno una bivalenza diciamo bisogna partecipare c'è insomma c'è un punteggio chi volesse arrivare poi a partecipare insomma anche alla classifica finale deve partecipare a tutte almeno a un tot come funziona il il regolamento lo potete trovare sui volantini che abbiamo distribuito su eh in tutti i negozi specializzati lo trovate anche su internet sul sito di Carnia Bike scaricate e il regolamento è scritto per filo e per segno adesso a spiegarlo è un po' complicato comunque abbiamo deciso di non eh inserire gli scarti quindi al ai fini della classifica generale eh verranno tenuti buoni tutti i risultati di tutte otto ok le le gare sì quanti partecipanti ci sono stati nelle altre edizioni mediamente insomma in totale la verità sì è quello che vuole lei perché i numeri insomma è bello a gonfiarli se no avevamo sì ultimamente c'è stato un calo abbastanza eh marcato nelle presenze siamo partiti dieci anni fa che c'erano minimo cento partecipanti negli ultimi due anni invece eh un po' anche per sfortuna meteo però avevamo gare con 50 partenti e per questo anche che abbiamo deciso insomma di dare una svolta abbiamo scelto di di organizzare con l'Axi perché è la federazione che ha un calendario eh molto nutrito e eh gran partecipazione di di ciclisti comunque sì abbiamo parlato per esempio nelle scorse settimane anche di corse montagne di sky race di trail eccetera voi avete fatto scuola adesso si mettono in circuito voi da questo punto di vista avete fatto scuola perché il circuito appunto diciamo esiste da 22 anni quindi il fatto di mettere insieme diverse gare di coinvolgere diversi paesi perché comunque poi c'è anche un aspetto e turistico e anche di cura del territorio che non possiamo dimenticare perché questi sentieri questi percorsi vengono aperti e in qualche modo restano a disposizione segnalati anche eh poi per per tutta la stagione sì devo dire che il trail e la corsa in montagna sono tra i principali insomma le principali cause che ci hanno fatto calare le presenze perché molti molti sportivi si sono spostati su queste altre discipline e lo scopo uno degli scopi insomma del trofeo è proprio quello di portare eh ciclisti eh che non sono i carnici che che frequenteranno le nostre montagne i nostri sentieri perché in effetti abbiamo una ricchezza che va valorizzata in Carnia nell'Alto Friuli in genere. Chiudiamo solo con il calendario perché eravamo arrivati appunto a Raduno di Moggio e poi ci sono parlavi del finale a Timao in mezzo ci sono il mezzo e Paluzza. Abbiamo Raduno di Moggio ehm un piccolo inciso il Raduno di Moggio non avrà classifica però le tutti i partecipanti al Raduno avranno un bonus di punti c'è scritto sul regolamento eh appunto perché vogliamo incentivare gli agonisti a partecipare a questa scampagnata che poi scampagnata non è perché si tratta di un percorso abbastanza duro che permette anche un buon allenamento e si fanno 1400 metri in salita con una mezz'oretta da fare bici al fianco a spinta e poi si fa un'ora di discesa su un sentiero veramente eccezionale. Vale la pena quindi poi? Eh sì eh sì decisamente. Un'altra novità ce l'abbiamo il 26 agosto che è di venerdì faremo nell'ambito della Gran Fondo che Carnia Bike organizza che si chiama Carnia Classic eh Fuji Zoncolan eh organizziamo una gara di cross country partiremo alle 8 di sera in piazza a Tolmezzo quindi verrà fuori una gara che parte ehm al tramonto diciamo e si conclude in notturna quindi bisogna partire col faretto e faremo un percorso misto cittadino e misto sulle sulla collina che domina Tolmezzo nella zona di Precastello. Anche questo verrà un cross country con il percorso abbastanza breve da ripetere eh tre quattro volte. Adesso dobbiamo decidere bene il percorso. Poi passiamo a settembre il quattro domenica abbiamo la cronoscalata da Paluzza a Maga Pramosio. In abbinata con la gara polistica diciamo insomma con il ricordo di Erving eh che si chiama Volo dell'Aquila sì eh questa abbiamo voluto mantenere la cronoscalata anche se esula un po' da dalla filosofia che abbiamo della mountain bike perché è un bel ricordo perché ormai è una tradizione e abbiamo visto che è molto apprezzata anche dai ciclisti perché arrivare in Maga Pramosio comunque è sempre uno spettacolo. Sì è uno spettacolo unico. Io volevo chiederle eh dovesse lei indicare un percorso per escursionisti principianti e uno invece tosto per per esperti e ciclisti allenati. Ma istruzioni per l'uso. Esatto ma anche fuori da questo dei del trofeo ecco insomma. Allora. Lei conosce bene il territorio per quello. Sì eh dirne uno è un po' difficile perché eh ognuno ogni ciclista ogni biker ha i suoi gusti. Eh questa domanda mi dà l'occasione per invitare tutti a visitare il sito Carriabike eh abbiamo fatto una sezione che si chiama percorsi dove c'è proprio dentro i top 20 che noi come società consigliamo e c'è la descrizione e c'è scritto insomma quanta salita quanta discesa che impegno tecnico serve e veramente lì c'è da da consumare le ruote della bicicletta a girare tutti i percorsi. Eh sottolino. Qual è in cima la classifica allora? No non li abbiamo messi in ordine perché verrebbero fuori troppi malumori in carne. Le faide esatto. Sì troppi campanili. Eh ne abbiamo di super eh di bassa valle di medio o anche in quota eh quello che io ho più insomma. È di cuore. Sì. È un percorso a otto che è meglio farlo in due giorni e che prevede la salita in cima al Crostis quindi si arriva con la bicicletta a duemila quattrocentocinquanta metri. Poi si scende si va nel versante diciamo ehm del Coglianz rifugio Marinelli quella zona lì e poi si rientra. Un giro spettacolare da fare eh a mezza estate insomma e con il bel tempo però insomma offre dei panorami delle pedalate e delle degli itinerari anche dal punto di vista sia tecnico sia fisico veramente impegnativi e spettacolari. Questa è una cosa che merita veramente di essere fatta. Allora appuntamento con Carne Mountain Bike abbiamo ricordato il sito siete anche su Facebook li trovate tutte in indicazioni per questo questa ventiduesima edizione del trofeo. Grazie Roberto Giazzon per essere stato con noi. Grazie a voi della possibilità dell'occasione. Vi aspetta eh anche se ha detto che è dura per allenarvi. Ci vediamo tra pochissimo state con noi.